9 punti in 9 gare su 27 in palio in totale. Il bilancio dei primi due mesi di campionato non è sicuramente positivo per il Pescara. Dopo un mercato importante che si era chiuso con colpi dell'ultimora come Guana, Pasquato e Salamon, ci si attendeva francamente di più da una squadra che ha fatto vedere buone cose ma anche cose meno buone. Al di là della posizione di classifica che dopo 9 turni lascia il tempo che trova, resta però il fatto che la squadra non è ancora riuscita ad esprimere tutto il suo potenziale. Non mancano certo gli alibi, stiamo infatti parlando di una formazione nuova con un nuovo allenatore. I contrattempi avuti in ritiro con i tanti infortunati non hanno agevolato Marco Baroni che ha dovuto plasmare il suo team praticamente da zero. Una squadra rinnovata che ha impiegato del tempo per assimilare il credo calcistico del suo timoniere. Per non parlare poi degli errori arbitrali, quelli di Vicenza, gli ultimi ma solo in ordine di tempo. Ma il Pescara è una squadra che è stata comunque sempre propositiva seppure alternando buone prestazioni a prove meno buone e contrassegnate soprattutto da errori individuali. Il tallone d'Achille del Delfino resta alla difesa. Le 13 reti subite sono tante. Nel reparto arretrato il tecnico Biancazzurro ha cambiato e ruotato per volontà ma anche per causa di forza maggiore tutti gli uomini a disposizione. In porta ha iniziato Fiorillo prima dell'innesto di Aresti. I centrali di difesa a turno non hanno mai convinto del tutto. Zuparic e Ciosic fino a Vicenza erano stati migliori ma la prova del Menti ha poi evidenziato dei limiti. Su Pesoli e il suo rendimento deludente si è detto e scritto tanto. Salamone è arrivato tardi e con qualche problema fisico. Discreto ma non ancora eccesso il rendimento dei terzini Pucino, Zampano e Grillo. A centrocampo Baroni sta cercando la quadra. L'unico inavovibile resta Bikir Biarnason con Guana che non è ancora riuscito a convincere del tutto. A Pelpirè resta il regista ma quando rientrerà Brugman le cose potrebbero cambiare. Le note liete arrivano dall'attacco che il secondo del torneo dopo quello dei cugini della Virtus. Delle 16 reti segnate 10 portano la firma della coppia Melchiorri-Maniero. Anche Pasquato è riuscito a lasciare il segno mentre resta ancora secco Politano. Si aspetta ora il rientro di Caprari sperando che l'ex romanista torni ad essere il giocatore ammirato nell'anno di Zeman. E sabato col Carpi all'Adriatico il Pescara non potrà sbagliare.